L'obiettivo della nostra ricerca è l'analisi del concetto delle pratiche di innovazione sociale in tempi di austerità e della loro rilevanza nel dibattito sulla riforma dei sistemi sanitari nazionale e regionale. La mia ricerca nasce dalla collaborazione con il Dipartimento di Social Policy e Intervention dell'Università di Oxford e si inserisce all'interno di un più ampio progetto di ricerca legato al mio assegno. Cosa intendiamo per innovazione sociale? Con questo termine facciamo riferimento a nuove idee, prodotti, modelli, servizi che simultaneamente rispondono ai cosiddetti nuovi rischi sociali come l'invecchiamento della popolazione e contemporaneamente promuovono nuove forme di relazione e collaborazione tra individui e gruppi. Molto spesso l'innovazione sociale è concepita come una strategia quasi miracolosa, capace di produrre risultati equivalenti se non addirittura migliori rispetto a strategie utilizzate in passato, con un numero inferiore di risorse. Nella nostra ricerca intendiamo mettere in discussione proprio questo aspetto. Il contesto in cui si inseriscono le pratiche di innovazione sociale nel sistema sanitario italiano è caratterizzato da alcune differenze e affinità nello stesso tempo rispetto ad altri paesi europei. Il sistema sanitario italiano costa di meno degli equivalenti britannico, francese e tedesco, la spesa pro capita è più bassa, è cresciuta di meno negli ultimi dieci anni e pertanto la sostenibilità del sistema sanitario nazionale non è a rischio a causa del deficit, sempre più sotto controllo, ma paradossalmente proprio dalla mancanza di investimenti tecnologici e infrastrutturali. Per dare un'idea del quadro che abbiamo di fronte, nel periodo 2003-2010 la spesa per investimenti pro capite in media nazionale è stata di 59 Euro, con picchi in alcune regioni del nord come l'Emilia Romagna e livelli più bassi purtroppo in regioni come la Calabria, dove sono stati spesi soltanto 20 Euro a testa. Questo cosa significa? Che proprio le regioni del sud, la Calabria ad esempio, sotto piano di rientro, sono quelle più esposte al rischio combinato di tagli lineari indiscriminati e un aumento delle disuguaglianze, delle disparità territoriali. Di fronte a questo quadro e ad una concezione a volte troppo ottimistica dell'innovazione sociale come panacea per ogni male, la nostra ricerca propone due alternative credibili e dal nostro punto di vista più responsabili. Da una parte una ridistribuzione delle risorse disponibili fra due generazioni, dalle generazioni precedenti a quelle più giovani e dall'altra una transizione da un welfare basato sul trasferimento monetario a un welfare basato sulla fornitura di servizi.